ciao ragazzi mi raccomando di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdere il mio fantastico video e nel live mi raccomando importantissimo ciao 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 ragazzotti oggi siamo sulle laghi island di cube craft e speriamo che oggi andrà bene raccomando lasciate un bel like e niente chi non è scritto iscrivetevi se vi piace il canale mi raccomando allora spacchiamo questo subito questi laghi ecco un maiale ci serviva proprio il nostro piggie piggie o o o o o o o ca o ca o ca o ca sono morto sono morto sono morto sono morto die eccoci ragazzotti in un'altra partita che vuoi fare e signorina e signori e crepas grazie signorina non dovevi sei molto gentile signori ok siamo c'è un po di cibo perché sono quasi che arrivano 54 e 48 e non vorrei creparci ho già sentito uno zombie che non mi piace mangiamo 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 chi sei ho sentito uno zombie e vabbè e vabbè se domani si allora rompiamo questi rompiamo anche questo uendertale una staff buono buono veramente o vera me allora che sa fa a lo scudo ok 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 rompiamo anche questi o micio micio ci abbiamo bufu abbiamo bufu anche quest'oggi abbiamo bufu grande bufu grande bufu ci sei sempre per noi o esplosivo daglie così taglia così peccato che ci abbiamo blocchi per andare al centro ma non abbiamo le ander pearl e si bufu attacca bufu attacca attacca bufu bufu attacca bufu se scarso cavolo bufu se scarso cacchio e miau il cavolo che miau miau tu ancora miau dici alla tua età no non bruciare bufu non bruciare bufu oh abbiamo i lupi abbiamo anche i lupi ragazzi oggi abbiamo la vecchia fattoria io io a me mi serverebbe una craft in tempo però non vorrei di niente una craft in tempo non mi farebbe schifo allora prendiamo questo andiamoci un altro palinozzo che altro abbiamo preso vabbè in altro shot non shotgun ok certo che una craft in tempo a me non mi farebbe non mi farebbe proprio schifo diciamo diciamocela tutta manca un'armatura che c'è la mente no è il pig trasformazione da un pig a un altro molle no fanculo via no fanculo ma io te lascio qua no 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 aiuto apri via crepaci crepaci siamo gherbati no colpa del pig no Eccoci ragazzotti Eccoci ragazzotti in un'altra Lug Island Vediamo un po' No E subito Bob Vaffanculo Vai via Qua ci dovrebbe sorrere la G-Block Infatti Certo Certo Un Enderman molto utile Molto 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 utile Ok Qua sono finite la G-Block Ah no c'è sta al piano di sotto Vediamo un po' Vai Certo la Gobloss non mi serviva certo Molto importante Non siamo per niente sfortunati ragazzotti Allora Dunque che mi dite come va come va Rispondete nei commenti Come è andata oggi la giornata Come è andata Come è andata a voi insomma Qua non c'è sta niente E ce ne andiamo al centro Però Però anche adesso non ci ammazza Vai 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 così Vai così Non ancora Vai così Vai così Vai così Vai così Vai salto della fede No Via Uuuh Bella Bella Bellissima la spada in diamantone Diamantone E vabbè Ma che è la giornale degli Enderman Oh i silverfish Ci mancava Ci mancavano i silverfish Crepateci Crepateci brutti Mamma mia Oh Via Crepateci 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 E Qualcaccio che la uso Torcaccio che la uso I polli Nella vecchia fattoria Iaia Grazie E qualcuno Casca Iaiaia Iaia Oh Corcaccio che mi prendi tu Iaia Oh Sei fortunato che non abbiamo un Ender pearl Iaia Oh Wtf Porca puttana È impossibile Ok grazie Andiamo Vamos Vamonos Al centro Vamonos Vamonos Vai Salto della fede Ok No Corcacchio No Sfortunato Stavolta siamo stati sfortunati Acqua No Via Schifoso Via Crepaci No Siamo morti Cavolo Arri Eccoci ragazzotti In un'altra bellissima partita Speriamo che questa volta andrà meglio Senza maiali che si trasformano Senza Enderman Qua Beh Tanto che esci Spacco un'altra La di block Oh Crepaci male Crepaci 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 e rieccoci ragazzotti in un'altra partita speriamo che questa va bene perché veramente mi sono rotto le scatole mamma mia una mela cioè mamma mia più sfortuna di noi sinceramente non c'è nessuno la staff dmt qua vediamo che cosa capita non ci capirà schifo non spaventiamo buono buono se la buttiamo qua non c'è niente i laghi blocchi e stanno sopra prendiamoci un po del gnoccio e andiamo al centro ok eccoci abbiamo fatto un po di legno cerchiamo di andare a centro sperando che qualcuno non ci butti giù e saltiamo sotto della fede e tnt della fede e tu ci credi e tu ci credi credo ci credo ci voleva voleva va così mangiamoci una mela mettiamo qualche altra che blocchi non è che sono un mio dio basta basta andiamo a rarare qualcuno che pare che pare questo che parlate non lo so mangiamoci un'altra meluzza e andiamo a rarare questi bambinetti allora andiamo a rarare questi ragazzotti allora poi ragazzotto che stai a falla no non è un ragazzotto cavolo non è per niente un ragazzotto bella roba questo mi serviva e anche questo mi serviva non è per niente male e anche questo mi serviva qualcosa non mi serviva what the fuck tutto mi serve vai 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 qualcuno sarà non c'è l'arco sicuro all'arco poi c'è l'arco vai giù vai giù tutti andà giù ma dai ma questo mo se la campi che pa che pa si campi che pa scendi giù schifoso ti rompa malinuti scendi puttana scendi giù puttana questa mo che cacchio devi fa oh dove sta chess ma dai ma perchè è lui camper si vabbè si vabbè in altro no andiamoci noi sopra andiamo sopra andiamo sopra andiamo sopra andiamo sopra andiamo sopra crepaci crepaci mamma mia cd crepa proprio cd da crepa cd vita crepa proprio anna capito prendiamoci questo e questo by crepaci crepaci proprio via via che vai via vai raccorantino ma che si dicarica mi sa proprio che si dicarica non siamo in a dnt a quello è sì stefano nonno e la mira nonno della mira ragazzi veramente è fantastico nonno e la mira allora no sbagliato crepaci no gg gg vincere la partita senza toccare le persone ok bene 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 allora il prossimo labbetto dove sto dove sarà sta camperando camper camper dove sei nonno è qui per ucciderti ho sentito qualcosa ho sentito veramente qualcosa no dove sta questo camperino camperino o camperino camperello anno era un enderman ragazzi oggi flash le persone ok da tutte le parti ok va bene così ma questo sarà sarà campero che palle ecco tu sei mio 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 Ok Va bene così Va bene ragazzi Per questo video è tutto Mi raccomando lasciate un bel like E condividete mi raccomando Un bel pollice in su per il vostro nonno Che ho già fatto una partita brutta Ma brutta brutta Perché sempre a me Ciao ragazzi vi voglio bene Ricordate sempre che vi voglio bene Ma tanto bene e ciao ciao